Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro amichevole Edo di Every Eye Plus. Oggi parliamo un po' di The Walking Dead facendo il punto della situazione perché sembra tutto pronto per il ritorno di Rick Grimes nella serie. Rick Grimes che era sparito, morto, diciamo più sparito, durante la nonna stagione con quel volo in elicottero, e che poco dopo era stato annunciato il suo ritorno in una serie di film, in una trilogia in realtà dedicata appunto al personaggio, visto che i fan lo amavano alla follia, spostandosi dalla TV al cinema. Da quel momento in poi però non si era più saputo nulla. The Walking Dead si sta concludendo adesso con la sua undicesima e ultima stagione e sembra proprio che Rick Grimes stia per tornare, e che quindi stia per tornare prima nella serie TV e poi al cinema. Intanto cosa sappiamo del ritorno di Rick Grimes? Sappiamo che Andrew Lincoln, l'attore che interpreta Rick, è stato visto assieme a Norman Reedus, quindi l'attore che interpreta Daryl, in un ristorante giapponese ad Atlanta, molto vicino al luogo delle riprese dell'undicesima stagione. Tanto che i due si sono fatti una foto assieme allo chef del ristorante da cui sono andati a mangiare, e l'hanno postata sui social su Instagram. Ora, questo è un indizio molto forte del fatto che possa ritornare Rick nell'undicesima stagione. Ci starebbe anche, no? Chiudere The Walking Dead con il suo personaggio simbolo, uno dei suoi personaggi simbolo, soprattutto per fare una sorta di traino, per lanciare la serie verso i film. Questi film dovrebbero raccontare tutta una storia inedita incentrata su Rick Grimes. Ora, la domanda è, questa storia coprirà l'arco narrativo tra la nona e l'undicesima stagione, dal punto di vista di Rick? Di cosa parleranno questi film annunciati, come dicevamo tempo fa, e poi lasciati un po' nel dimenticatorio, non si è più saputo niente di quello che doveva essere all'inizio un solo film, e poi si è trasformato in una vera e propria trilogia? Quindi, di base, l'idea è molto forte e incentrata su un personaggio così amato. E infatti, visto che è passato così tanto tempo dall'annuncio al Comicon addirittura di questi film dedicati a Rick, che i fan avevano un po' perso le speranze, si aspettavano in tanti di rivederlo per chiudere la serie, e ci immaginiamo che così sarà, però sui film ancora non si sa niente. Di sicuro la pandemia ha ovviamente rallentato, la produzione ha rallentato tutto quello che doveva essere, il grande comparto che si sarebbe messo in piedi per creare la trilogia, però si è parlato fondamentalmente del fatto che sì, in qualche maniera la storia si sarebbe incentrata sul periodo di sparizione, per virgolette, di Rick Grimes durante la serie. Dove è stato portato? Dove è finito? Tutti i fan sapevano che Rick non era morto, diciamo che in The Walking Dead se un personaggio muore lo si vede, e in quel caso la fuga di Rick era stata vista come un modo per farlo poi ritornare, per dargli un po' di pausa, diciamo, dare un po' di pausa all'attore, dare un po' di pausa al personaggio nella serie e farlo poi tornare. Da questa pausa, chiamiamola così, però si dovrebbero trarre appunto questi tre film che non sappiamo se tutti saranno ambientati in questo periodo, in questo lasso di tempo in cui Rick Grimes ha affrontato zombie, altre avventure per i fatti suoi, oppure se magari soltanto il primo si può in qualche maniera posizionare tra la nona e l'undicesima stagione, prima e secondo, e poi magari un terzo che si collega a presumibilmente quello che vedremo di Rick in questo finale di serie e poi lo porterà oltre. Magari soltanto il primo film potrà essere ambientato tra queste stagioni e poi la seconda e la terza parte andranno oltre e vedremo quello che succederà dopo a Rick Grimes, come Rick Grimes affronterà il finale di stagione, cosa comporterà il finale di stagione, il finale della serie di The Walking Dead per un personaggio che ne ha viste davvero tantissime come Rick Grimes e un personaggio ancora così amato dai fan. Dei film di Rick Grimes è intervenuto anche il papà di The Walking Dead, cioè Robert Kirkman, il creatore del fumetto, che in qualche maniera supervisionerà anche il progetto dedicato allo sceriffo Grimes. Ha detto che vogliono che sia un prodotto fatto bene e che quindi si stanno prendendo tutto il tempo necessario per fare sì che esca un prodotto che possa soddisfare i fan, che possa soddisfare Andy Rulinkoel, che ricordiamo aveva accusato, aveva subito, come dire, la fatica di questo ruolo che si è portato avanti per nove anni della sua vita, che l'ha tenuto spesso lontano dalla famiglia e ruolo dal quale voleva un attimo prendersi una pausa. Il film in realtà potrebbe essere un ottimo modo per lui per ritornare nel personaggio, ma in un lasso di tempo, anche se su tre film è però più contenuto, e fare sì che gli impegni lavorativi e gli impegni personali vadano a coincidere. Quindi Kirkman ha detto che stanno facendo tutto il possibile per fare sì che il prodotto venga come deve essere e che possa soddisfare appunto i fan. Al momento non sappiamo ovviamente quando usciranno i film, dove usciranno i film, se andranno direttamente al cinema, se andranno su Disney+, ci aspettiamo vista l'eco mediatica di The Walking Dead, un passaggio ovviamente in sala, e poi un arrivo a stretto giro su Disney+, però al momento non sappiamo nulla, non abbiamo idea di come saranno i film, di chi li dirigerà. C'è però tanta attesa, soprattutto visto il plausibile, ormai molto probabile, ritorno di Rick per chiudere la stagione finale di The Walking Dead. Ora però voglio un po' sapere la vostra, voi aspettate questi film? Non vedete l'ora di rivedere Rick Grimes all'interno della serie? Ditemelo un po' nei commenti qua sotto, e non dimenticatevi di iscrivervi a Evray Plus per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi video. Ciao belli!